Volevo anche prima chiedere, perché mi approfitto di questa pausa, grazie a Dudulu Tati diceva 79, c'è Dudulu 78 Diceva per Dragon Age, occhio al 28, perché da quello che ho capito io, leggendo la chat, il 28 usciranno le recensioni Sì, noi non abbiamo il codice No, 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 io l'ho detto, lo comprerò il 31, il 31, comincerò a giocarlo, quindi impossibile Però vi dico una cosa, a me le recensioni di Dragon Age interessano e non interessano Ve lo dico semplicemente Perché è troppo un tuo titolo No, ma non è per questo, perché potresti che prenda anche 8, 8 e mezzo Però perché? Perché magari ha la bella grafica Perché è un buon gioco Perché magari è divertente da giocare Perché magari chi lo sta recensendo è il primo Dragon Age che gioca e dice Oh, è bello Oppure Oppure gli altri siete scordati Oppure va bene, però il gioco fa bene quello che vuole fare Ok Quindi a me interessa, cioè, fa piacere se prende un voto alto Però relativamente, cioè, dobbiamo capire Sai cosa? Secondo me l'interessante non è capire il voto alto o meno Perché il voto alto, da quello che sto capendo, anche dalle anteprime Avevano fatto Sabacula Ci potrebbe anche stare, cioè, secondo me, potrebbe anche prendere voti alti Ok Il punto è, chi nella recensione però mi farà capire che comunque non è più Dragon Age Ecco, io questo, a me questo interessa Se non lo è, se non lo è Quindi ovviamente ci potranno essere tante recensioni che lo diranno Le recensioni scritte da appassionati, da persone che lo diranno Ragazzi, sappiate che è Dragon Age al 100% Aveva un coraggio pazzesco Cioè, in realtà non c'entrava niente con i trailer Oppure chi mi confermerà No, ragazzi, Dragon Age è morto Però io sinceramente per questo mi riservo a quando lo giocherò Tiratina d'orecchie a Pregianza si ha detto veramente questa cosa Fallout 00 dice Pregianza dice Se lo recensionisco io 8 non lo prenderà mai Allora, tiratina d'orecchie perché il critico videoludico Ma proprio amichevole, tiratina d'orecchie perché io penso che l'abbia detto in un modo goliardico Pertanto lo capisco Però il critico videoludico non deve avere di questi pregiudizi Se effettivamente il gioco sarà un buon gioco Bisogna giudicarlo per quello che è Il punto, infatti, non è il voto Non è non gli metto 8 a prescindere Il punto è Fammi capire, tu recensore A me, appassionato di Dragon Age Se è un Dragon Age Aspetta O se effettivamente hanno fatto pappetta di tante cose e mi stanno inculando Non per giustificare Pregianza, per carità Secondo me quello che voleva dire lui è E che un po' lo penso anch'io Da quello che si è visto Cioè non è come la questione Silent Hill 2 ragazzi Non è come la questione Silent Hill 2 che uno ha visto dei trailer Dice vabbè magari sono trailer sfortunati Con Dragon Age la cosa va un po' oltre perché abbiamo visto veramente tanto E la gente ha giocato per 7 ore a sto gioco Quindi c'è veramente Cioè se tu analizzi un po' il gioco in tutte le sue sfaccettature Quindi lo analizzi dal punto di vista della direzione artistica Dal punto di vista del character design Dal punto di vista dei dialoghi Da quelli che hanno giocato 7 ore E dal punto di vista del combattimento Ci sono tante cose per cui dici Oh ma in che cosa questo è Dragon Age E come fa un gioco del genere a prendermi più di 8 Intendeva penso questo No 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 intendeva niente E come si vede ragazzi io sono in buona fede imparziale Perché stavo andando anche contro un amico Ok fregandomene di quello che avrebbe potuto dire Perché invece Fallout 00 dice No aspe è una mia supposizione Conoscendo il suo spirito critico e ascoltando le sue impressioni Non gli puoi mettere però parole in bocca e non ha detto Perché io immaginavo che lui non avrebbe detto No ragazzi dimenticatevi l'8 Perché è una frase agghiacciante da dire se sei un critico videoludico Non puoi dirlo Non puoi dirlo Semmai puoi dire Ok ragazzi va bene Spassionatamente E in maniera quanto più imparziale possibile Il gioco magari è 8, 9, 10 Però vi devo dire Amici appassionati di Dragon Age L'abbiamo preso in culo con tutte le palle Ecco Però il voto è quello perché il gioco vale Però diciamo che se avesse detto Se vale Se vale Magari è un gioco di merda che merita 2 Io non lo so Se avesse detto Bah ho poche speranze Secondo me è per quello che ho detto io Perché comunque ci sono tante cose che non convincono sinceramente Grazie Lanterna Gialla Grazie Lanterna Gialla Non che fanno di questo gioco un brutto gioco Perché molti dicono Un gioco di merda No magari è un bel gioco Chi lo sa Stiamo parlando di un altro tipo di giochi Sto parlando io di un'altra cosa Sto parlando io di Dragon Age Purtroppo il nostro lavoro ci chiama ad essere Che poi purtroppo in realtà è giusto che sia così Cioè ci chiama ad essere imparziali Anche quando si tratta di un prodotto del cuore Però l'imparzialità se ne va a farsi benedire Quando subentra la nota post credits Cioè ragazzi se siete appassionati di questa serie Come lo siamo noi Come lo è Midran Come lo è Raiden Ragazzi sappiate che non abbiamo avuto il nostro Dragon Age Del cuore che speravamo di avere E la cosa era già nell'aria Ma io sto facendo delle supposizioni Chissà ma io ancora sono un inguaribile ottimista Chissà se domani in realtà Domani quando uscirà il gioco in realtà Wow Udà appassionato di Dragon Age Ma mi sta piacendo Regà che bello che mentre ci sono i dialoghi I bauli esplodono così Facendo di vedere che non era affatto pensato Per le microtransazioni E per il mobile Wow Ecco Diciamo che ci sono delle cose Che come ha detto Midra prima Dal neon, blu, viola Ma questo possiamo anche trascurarlo Ed altre Che ci fanno pensare Che la strada non sia quella giusta Ma vabbè Ma anche dal punto di vista narrativo Di cui però non so nulla ragazzi Perché ovviamente Lo so Visto come sono le situazioni odierne E vista la piega che sta prendendo Slice Braver ti sta rispondendo Bioware e tutte cose Secondo voi Fanno morire dei personaggi questi? O personaggi che muoiono Avranno determinate caratteristiche? Sì sì vabbè ho capito Fallout Cosa intendevo In generale Cioè anche far venire dei piccoli traumi A chi gioca No Il giocatore deve essere Sempre felice Sempre Deve poter fare tutto il giocatore Ok? Deve accedere a tutte le romance Deve accedere a tutte le cose Deve soffrire Allora ragazzi Le aspettative Obiettivamente Da appassionati di Dragon Age Sono basse Chiunque abbia parlato I Dragon Age Però magari mi stupiscono Le aspettative Sono basse Chiunque abbia parlato I Dragon Age Ne ha parlato Deluso Da quello che ha visto Da quello che ha intravisto Da quello che ha provato Se si è stato provato Lara Fenrir Sabaku Gli stranieri Non ho visti tanto Anche Falconero ha detto Che già Non l'avete bene come cosa Siamo tutti d'accordo Tutti d'accordo Poi Sabaku e Lara L'hanno pure provato E ne hanno parlato Maluccio Però ne hanno parlato male Ma poi hanno detto Però potrebbe prendere Dei buoni voti Perché come gioco in sé Funziona Ma per gli appassionati Dragon Age È una specie di coltellata Al cuore Questo hanno voluto dire In buona sostanza No? Hanno detto Vorrei mettere parole in bocca Eoghurst Legacy E quindi Non hanno detto questo Ragazzi sto scherzando Però interpretando Eoghurst Legacy Quindi Eoghurst Legacy È un gioco divertente È fatto bene Non puoi dire niente Ma non è Dragon Age Diversi streamer stranieri Ne hanno parlato bene Dice Pivarun Allora io non lo so Ma mi è giunta alle orecchie Una certa voce Allora io ho visto Tipo una marea di contenuti Da però Persone che io reputo Credibili E non ho visto Nessuna cosa positiva No Io vi sto dicendo Per gli streamer stranieri Ragazzi Non lo so Streamer Creator stranieri Voi controllate sempre Non voglio presumere niente Però voi controllate sempre Che ci sia la scrittina ADV Perché se c'è scritto ADV E non sono E non sono critici Ma sono semplicemente Dei game player Degli enthusiast Gente che gioca online Non vi potete aspettare Troppo spirito critico Ok Ma poi ripeto Cioè ragazzi Magari il gioco Si propone Cioè si sembra Bello A livello di Si pone bene Quindi magari Se ci sono streamer Che non sono molto Addentro ai giochi di ruolo Ma giocano Dragon Age Probabilmente gli piacerà Saranno entusiasti Come per il discorso Enotria Ragazzi Enotria Non è malaccio Come gioco Enotria Doppia A Quello che vuole Non è malaccio Ma non è neanche Sta cosa E' un Diciamo che se non altro È stato un tentativo Che è qualcosa Però C'è stata una massiccia Attività di marketing A livello di influencer E di content creator Un sacco Ne parlavano bene Ma ce l'ha scritto a dv Il discorso quindi Bisogna capire Chi è che dice una cosa E chi ne dice un'altra Se c'è scritto a dv Io voglio vedere Come quello streamer Gioca al gioco Ma non mi aspetto Nessun parere critico Perché non avrebbe senso Invece Nel momento in cui Oppure Potrebbe anche avere senso Ma non so In che modo Interagire con quello streamer Con quel content creator Perché ci sono anche quelli Che nonostante Ci c'è scritto a dv Ne parlano come ne vogliono E poi anche a costo di perdere La dv Di perdere Collaborazione Se ne stanno sbattendo Però Non conoscendoli Magari tanti Di questi streamer stranieri Io non lo so Che cosa dicano Di Dragon Age E perché lo dicano Pertanto io Semplicemente Mi rimetto al mio Spirito di giudizio E' quello di Midna E' quello di colleghi Che ritengo essere Imparziali Sotto questo punto di vista Però Imparziali bisogna essere Cioè non partire in quarta Ma neanche Dire Vabbè Però ragazzi Sapete che Tutto sommato Adesso lo analizzo solo Come un gioco a sé Non lo puoi fare Lo puoi fare Ma poi devi fare capire All'appassionato di Dragon Age Perché Non funziona come Dragon Age Se non funziona come Dragon Age E questo mi aspetto Insomma Da certi colleghi Che lo faranno Sicuramente Mi aspetto Assolutamente Così come potete aspettarvelo Da noi Però Più di questo Speriamo bene Insomma Io ho sempre Ho sempre Quella Ripete Quel lato tossico mio Che pensa No guarda Ti piace Sarà bello Ti piacerà Sarà un vero Dragon Age Saranno cose pazzesche Si Si